ricetta colazione con fibro musli ricetta semplice e veloce per iniziare la giornata con una deliziosa ciotola con bio fibro musli di el granero integral puoi aggiungere i tuoi prodotti preferiti per gustare la colazione nel migliore dei modi tempo di preparazione 5 minuti tempo di cottura 0 minuti tempo impiegato 5 minuti numero di commensali 1 anno stagione tutto l'anno difficoltà molto facile tipo di cucina europeo categoria piatto colazione ingredienti 100 grammi di fibro musli 130 grammi di yogurt bianco ad alto contenuto proteico 5 grammi di sciroppo d'agave 15 grammi di burro di arachidi 1 mela 15 grammi di cocco in scaglie una manciata di noci un cucchiaio di semi di sesamo passi passo 1 aggiungi lo yogurt bianco ad alto contenuto proteico nella ciotola passo 2 mescolare con lo sciroppo d'agave passo 3 aggiungere il musli fibro bio le noci e il cocco laminato passo 4 tagliare la mela a fettine sottili e aggiungerle alla ciotola passo 5 versare un filo di burro di arachidi sopra la ciotola passo 6 decorate con qualche seme di sesamo la ricetta di el granero integral presso bio trattino farma punto es